La mancata proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale di Nardò ha fatto saltare le elezioni provinciali, inizialmente previste per il prossimo 18 dicembre, ad annunciarlo il Presidente Stefano Minerva. Da quando la riforma del Rio è attiva, il Consiglio Provinciale si rinnova attraverso il voto dei consiglieri comunali della provincia di Lecce. Queste elezioni di secondo livello però rappresentano un appuntamento di grande importanza per gli schieramenti in campo. Minerva, come previsto, rimarrà alla guida dell'ente, si rinnoveranno i componenti e gli scrani di Palazzo dei Celestini. Il quadro politico non dovrebbe però variare, la composizione della squadra di governo potrebbe essere sempre vicina all'attuale sindaco di Gallipoli che potrà contare non solo sul sostegno della città-capoluogo ma anche su quello di Nardò, dove è forte il peso dell'alleanza con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore Alessandro Dell'Inoci. Molti dei comuni più importanti del territorio provinciale sono asseribili al centro-sinistra, Trepuzzi, Surbo, Novoli e Lizzanello e l'Interla di Lecce. Scendendo e scorrendo la provincia ci sono anche Melendugno, Galatone, Copertino, Racale, Taurisano e Tricase. Centri importanti che con questo sistema elettorale possono spostare l'ago della bilancia. Si va verso quindi la conferma di quelli che sono gli equilibri esistenti a Palazzo dei Cedestini ma bisognerà attendere il mese di gennaio per conoscere la nuova composizione della giunta provinciale.